Franco Scortecci resta alla guida di Coingas. L'amministratore unico uscente ha infatti ricevuto l'86% dei consensi dei soci presenti, il 90%. Tra questi i comuni di Arezzo, Bibbiena, Capolona, Castiglionfibocchi, Castiglionfiorentino, Cortone e Sansepolcro, ma anche Castelfocognano e Castel San Nicolò, contrari i comuni di centrosinistra. C'è stata una riconferma che un po' mi impezzerisce perché comunque col rinnovo avremo diversi temi da affrontare, anche in ambito nel mondo estaco, con il dottor Grazzini, dalla revisione dei patti parasociali, ma anche di un progetto che sta sempre andando avanti legato alla multiutility. Quindi grandi responsabilità, soddisfazione, anche perché nel frattempo, superati questi tre anni che ci hanno trovato impegnati, c'è tutta una serie di vicende giudiziarie che ben si conoscono, stiamo cercando di dare un ruolo importante a Coingas, in sinergia con i comuni, in particolar modo col comune di Arezzo, su settori completamente innovativi legati all'ambiente e alle energie rinnovabili. Dimeva potessi pesare la vicenda giudiziaria? Ma io, come ho detto ieri, sono tranquillo, tornassi indietro farei tutto quello che ho fatto, sicuramente qualcuno ha sbagliato e qualcuno ha già pagato, delle responsabilità ci sono, la soddisfazione è che in questi tre anni ho avuto modo di codificare tutti i processi, anche decisionali, quindi abbiamo aderito al codice ANAC, quindi ora tutti gli incarichi, anche per chi verrà in futuro, sono già indirizzati dentro un binario, ovviamente è certo che questa è una tranquillità per l'azienda, ma in particolar modo anche per i soci che non avvenga quello che è già avvenuto negli anni passati. Ha provato anche il bilancio in vista degli importanti dividendi? Sicuramente anche quest'anno andiamo a distribuire ai territori più di 3 milioni di euro, 3 milioni 0,48, con delle aspettative anche per gli anni a venire migliori, perché dovremmo andare ora a discutere del bilancio di Estra e si spera anche lì, con molto senso di responsabilità, laddove non dobbiamo mettere in difficoltà finanziarie l'azienda Estra, alla luce anche di quello che sta succedendo nei mercati energetici, quindi c'è l'aumento dei prezzi, ma anche molte aziende che chiudono, quindi volumi che vengono a mancare, aziende o famiglie che non riescono ad arrivare in fondo al mese e pagare le bollette, quindi mantenere una certa liquidità all'azienda, ma allo stesso tempo io ho la responsabilità di portare ad Arezzo quelle risorse che oggi sono indispensabili per tutti i 27 comuni che ho la responsabilità di rappresentare. Cosa si lascia del passato e cosa c'è nel futuro di Coing? Sicuramente è un'esperienza pesante, perché per chi non ci ha abituato a ritrovarsi nelle aule di tribunali non è un'esperienza direi gratificante e piacevole, ripeto nella tranquillità mia, nel mio operato, quindi non ho problemi, il dispiacere che si è sprecato molto tempo, molte energie, ma anche molte risorse, perché comunque con tutte queste vicende giudiziarie, ricorsi all'ANAC, ricorsi al TAR, piuttosto che azioni civile verso eventuali colpevoli, sono risorse che sono state destinate a questo. Qualcuno ha sbagliato e qualcuno dovrà pagare. Nel frattempo Sederini punta il dito contro di voi? Ma io non voglio entrare su che sta vicenda, ognuno ha le sue visioni, io la mia perché penso di essere l'unico che ha letto 7-8 tera di memoria di tutto fascicolo giudiziario, ho le idee ben chiare ma non sta a me definirle, quindi ci sarà un giudice che farà le sue valutazioni. Diciamo che già ha avuto due anni di condanna, quindi segno evidente che qualche responsabilità la magistratura gliela ha riconosciuta.